Sinceramente è stata una gara un po' faticosa perché sia la prima che la seconda non abbiamo avuto la morte della straniera e quindi diciamoci siamo tutti a vedere, a guardare in faccia e lavorare senza pensare a riparare il baianzo che aveva. Però le ragazze sono state molto bravi perché hanno lavorato con convinzione, non si sono fatte trarre in grado e hanno affrontato queste somme due gare con molto impegno, con molta serietà e quindi in merito a tutto loro. La straniera ha avuto un infortunio già dalla prima gara, quindi non ha potuto fare la prima prova di Chieti e solo qualche giorno fa ci è stato comunicato che nemmeno la seconda gara poteva essere presente. Quindi va bene, sentiamo tanto da fare e speriamo.